25 studenti hanno presentato la loro richiesta dal Pakistan, in 55 dall'Iran, in 41 dalla Turchia e poi da India, Corea del Sud, Stati Uniti, Cameron, Giappone, Egitto e persino Brasile. Parla quasi 20 lingue del mondo l'interessamento verso il nuovo corso universitario di medicina e chirurgia in inglese, che prenderà il via a Piacenza tra pochi giorni. Le lezioni partiranno lunedì 18 ottobre nel Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni, in via Emilia Parmense, per 100 posti disponibili. Tra i 333 iscritti alla prova di ammissione che si è svolta lo scorso 9 settembre, ci sono oltre 170 giovani residenti fuori dai confini europei. Anche loro si contendono dunque la possibilità di frequentare questo percorso di laurea magistrale promosso dall'Università di Parma nell'anno accademico 2021-2022. Dal 6 ottobre la graduatoria di merito extra UE è pubblicata sul portale dell'Ateneo, ma non è ancora definitiva, si attende un'ultima verifica burocratica. A brevissimo poi cominceranno le immatricolazioni. Il primo anno accademico si svolgerà in presenza nel Salone degli Arazzi. Si tratta però di una soluzione provvisoria, perché si punta a una sede dedicata. Il Comune di Piacenza ipotizza la struttura dell'ex ospedale militare, ma le trattative con le autorità proprietarie sono ancora in corso.